Il 25, 26, 27 maggio 2018, tutti in Val d'Aosta con Bacco per Bacco Reunion. Berremo vino Petit Arvain della cantina Crojean. Mulder Turgo, noi ci saremo. Salute a tutti e buona giornata. Bacco per Bacco, 25, 26, 27 maggio 2018, decima edizione. Venite a Inval d'Aosta per la decima edizione di Bacco per Bacco e a degustare la degustazione di vini delle varie regioni. Fra cui Toscana, Umbria, Veneto, Piemonte e Liguria che abbiamo visitato nelle altre edizioni. Sarete benvenuti. Quindi un saluto particolare a tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento l'audio messaggio, anzi il video messaggio. Cosa vi sentite di dire per invitare gli amici progetti da varie parti d'Italia? Venite insieme a noi. Noi da tutto il pomeriggio stiamo già facendo allenamento. Perché bere è importante, mangiare è importantissimo, ma anche la parte culturale. La cucina, i paesaggi e le varie tradizioni. Ad esempio, Mulder Turgo, uno dei vini da bere più fondamentali. E' il Petite Hervé della Val d'Aosta. Quindi ci vediamo il 25, 26, 27 maggio 2018 in Val d'Aosta per Bacco e in Val d'Aosta. Un saluto a tutti. Ciao! Ciao!